RUGEBAUDE Adesso è ancora più alto, no? RUGEBAUDE O meno 23 RUGEBAUDE 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 Non lo so, hai visto? No, ma è proprio alto che... RUGEBAUDE 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 RU GOAAB RUGEBAUDE 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 RSUA Aumenta ancora? Aumenta ancora? Io ho terminato 20. Peccato che non ha più il momento lì che è andato giù a... Guarda. E l'altro? Dici che l'ampli digitale non sopporta quei suoni che gli fa qualcosa? No, non è. No, non è. Ma quei suoni sono sul... Guarda. Guarda, guarda, guarda. Ma è sceso e è risalito. Hai visto? Adesso faccio zuc. Zuc e sale, 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 sale. Suc. Presta, 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 presta. Ma se si. Ah si. Sì. Sì. Cancella l'altro. Sì. Sì. Oh, basta il rumore fuori. Ahi, menti adesso. Sì. Press, release, press, press. Sì. 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 Eh. Hai visto? Eh, guarda. Ma... Sì. Io non lo so. No, adesso è aerolamplica è... DRM, come? Non lo so. 3, 2, 1. Resta sale, 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 sale. Guarda, vedi? Resta su. E va giù. Cerca di adattare qualche livello. Prima era 20. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. No, non lo so. C'è un video. se lo lascio Siamo a... Siamo salendo eh Sì, arriva fino alla venta Puoi scendere Sperate, hai sprecato Guarda Siamo salendo Vai a dire, hai test Vai a dire, hai test E' Eeeh... 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 No! Ha ha! Quando arriva sopra un tot, sopra. Ma è peccato che prima avevo solo output level... a zero, forse... Eeeh, mi sa che è entusa, non ce l'ho quel di... e quel diereb lì. Eeeh... Eeeh... ... Eeeh... Quasi 20 di nuovo Si autocalibra di nuovo Perché non ho più potenze, guarda Dibia Quali mi levo? Perché? Non ho un concentrato Ah, forse Non, M Ma, quali mi levo? Quali mi levo? Sì, è sceso a uno Sì, è sceso a uno Ah, quando schiaccio il bottone, hai visto? Il cancellare cosa? Il selective canale che fa high and low Ma sulla radio è sempre L? Sì Anche prima, quando hai il numero? 13 Aspetta, adesso metto l'altro Eh sì, abbassa dopo No? Ma Il B25 fa... Ma non dovrebbe perché questo qua è il downlink No, no, è il downlink Non... Eh... No, no, è un caso Ora faccio Ci sono le poche Allora io Credo di compensare qualcosa 5 Quello Dunque Perchè adesso devo apposta? Ti non so perchè Adesso ho di nuovo 12 dB Sì sì Ehi Bob